Allora, Professor Ferracini, buongiorno. Oggi parliamo dell'efficacia del trattamento con il PRP. Che cosa significa PRP? PRP sta per Platelet Rich Plasma, che è un acronimo, che significa che si ottiene una frazione del sangue che è ricca di piastrine. Le piastrine servono per bloccare le emorragie, quindi coagulare il sangue, ma servono anche per stimolare le fasi successive rispetto al sanguinamento di una ferita, cioè lo spegnimento del fenomeno infiammatorio locale e l'attivazione dei fenomeni invece riparativi. Ci puoi spiegare un po' nel dettaglio il procedimento? Il procedimento è sostanzialmente una centrifugazione di un campione di sangue, di una provetta di sangue, e durante questa centrifugazione l'estratto di piastrinico si localizza ad un livello della provetta. A questo punto è semplice aspirare la parte contenente le piastrine per poterla poi infondere nel paziente. L'infusione avviene sia da una parte sotto il controllo del paziente che dice che quella è la zona sintomatica, ma soprattutto avendola già identificata precedentemente con l'ecografia, si riesce poi a mirare perfettamente l'infusione di questo estratto piastrinico nella zona della lesione, sia essa tendine, muscolare o legamentosa. Perché si fa il PRP? Il PRP serve per le lesioni che tendono alla cronicizzazione. Dopo 10, 20, 30 giorni una lesione tendenzialmente viene dimenticata all'organismo, l'organismo la considera guarita, mentre magari permane la sintomatologia. Allora per rivitalizzare i fenomeni riparativi e spegnere i fenomeni infiammatori, che sono al contrario, lavorano contro la riparazione, allora generalmente si usano le piastrine per far ripartire questi fenomeni riparativi e spegnere l'infiammazione. Occorre fare l'anestesia? Non si fa l'anestesia per due ragioni. La prima è perché l'infusione non è particolarmente dolorosa. La seconda è perché utilizzare l'anestetico insieme alle piastrine riduce l'efficacia dei fattori che le piastrine rilasciano localmente. È sufficiente una sola infiltrazione? A volte sì, bisogna sempre valutare clinicamente poi il risultato sul paziente. Ci sono delle situazioni diciamo subacute che si risolvono con una sola infiltrazione, invece ci sono delle situazioni, penso per esempio alle tendiniti croniche, le picondiliti, il gomito del tendinista per intenderci, questo tipo di patologie che sono presenti a lunga data che richiedono spesso successivi trattamenti. E quanto tempo deve passare tra un trattamento e l'altro? In genere dopo un trattamento si detiene il paziente a riposo per un periodo e durante questo periodo di riposo si valuta appunto se il paziente risponde, se si riduce la sintomatologia o meno. Se ci sono delle evidenze di miglioramento allora probabilmente si aspetta, se invece non c'è ancora stato un miglioramento in genere si procede ad un ulteriore trattamento. Ma si fa un prelievo del sangue per ogni trattamento? Ci sono delle strutture in cui si ha a disposizione la banca del sangue. La banca del sangue permette di fare un unico prelievo e di isolare una serie di aliquote da questo unico prelievo che vengono poi stoccate e congelate. Ci sono altre strutture che non hanno a disposizione la banca del sangue che quindi richiedono di eseguire un prelievo per ogni trattamento. Quindi ogni volta il paziente viene, fa un prelievo di sangue, si preparano le piastrine e si infondano. L'efficacia può considerarsi definitiva o un po' si perde nel tempo? Il trattamento di per sé provoca una stimolazione che è finita nel tempo, cioè dopo un certo periodo scompaiono questi fattori e finisce l'effetto. Però questo non vuol dire che finisce l'effetto terapeutico, perché se noi attiviamo una riparazione e questa riparazione avviene, è come se mandassimo la macchina dal meccanico, lui l'aggiusta e poi la macchina è aggiustata. Ci sono delle situazioni nelle quali invece questa patologia ritorna e allora bisogna fare successivamente dei trattamenti. Quindi non dobbiamo pensare dal punto di vista temporale a un problema di efficacia nel tempo delle piastrine, perché quella scompare, ma bisogna pensare a quello che localmente in quel momento le piastrine fanno di definitivo nella cura della lesione. Però è un trattamento che lei suggerisce spesso ai suoi pazienti? Sì, lo suggerisco spesso perché è facile, è poco costoso ed è, diciamo, ed ha un'efficacia ormai nota e ben consolidata. Ci possono essere degli effetti collaterali? Il paziente in genere ha la sensazione di come se avesse subito un trauma, come se avesse un piccolo ematoma profondo, ha questa sensazione legata all'infusione delle piastrine localmente, che è una sintomatologia che scompare rapidamente. Non ci sono altri effetti legati ai problemi allergici o altre cose, perché di fatto si tratta del proprio sangue, quindi non c'è nessuno di questi fenomeni descritto. E dopo il trattamento il paziente può tornare alle sue attività normali? Assolutamente sì, per quanto riguarda invece l'attività sportiva che stimola in modo particolare il gruppo di tendini infiammato, per esempio il muscolo danneggiato, consigliamo sempre di astenersi per un periodo dalla ripresa dell'attività sportiva, perché la ripresa dell'attività significa attivazione di fenomeni infiammatori che significano interferire pesantemente con i processi riparativi. Quale dei due trattamenti è più efficace, il PRP o le cellule staminali? Le cellule staminali si usano di più nell'ambito dell'artrosi e sono una stimolazione continua che dura nel tempo, perché le cellule staminali tendenzialmente vanno a vivere nell'articolazione che vanno ad abitare e quindi continuano a fornire nuove cellule ricostruttive e a stimolare l'ambiente circostante anche alla modulazione infiammatoria. Mentre le piastrine hanno un effetto temporaneo, dipende da quello che dobbiamo curare. Diciamo delle piccole lesioni, delle lesioni anche meniscali possono essere trattate con enorme successo con le piastrine, delle lesioni invece diciamo infiammatori che tendono a cronicizzazione di un'articolazione si trattano meglio con le staminali. Sono trattamenti riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale? Generalmente no, però sicuramente questa crescente evidenza della loro efficacia farà sì che sul lungo termine verranno considerate nel pacchetto fornito dal Sistema Sanitario Nazionale. Grazie mille. Grazie mille.